Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video riguardante la serie sugli investimenti immobiliari. Oggi andremo a capire tre principali tipologie di investimento immobiliare e soprattutto come si possono impostare anche da un punto di vista giuridico considerando l'abuso che viene fatto spesso delle società di capitali per gli investimenti immobiliari. Allora, le principali tipologie di investimento immobiliare possiamo chiudere in tre tipologie. La gestione immobiliare, quindi vale a dire prendere immobili, acquisirli e mantenere praticamente in affitto. Il secondo schema tipico che viene fatto è l'operazione di compravendita immobiliare che detta così sembra più una cosa dell'agenza immobiliare. In realtà è la classica operazione di trading immobiliare che noi facciamo. Qui stiamo, acquistiamo poco valore, rimettiamo a posto, quindi fix, vendiamo sell. Questo significa fare un'operazione di trading immobiliare. E infine la terza categoria è lo vero e proprio sviluppo immobiliare. Lo sviluppo immobiliare significa andare a prendere un plot of land, andare a prendere un vecchio palazzo, proprio riconvertire, fare proprio operazioni di livello anche molto più importante a livello economico. Perché bisogna andare a fare queste tre distinzioni? Perché la tipologia di oggetto sociale che noi andremo a utilizzare significherà cambiare radicalmente il profilo fiscale, aspetti di dedazione delle spese e così via. Il primo vero e grande categoria è la gestione immobiliare. La gestione immobiliare praticamente significa, come già detto, andare a prendere degli immobili, andarli a mettere in affitto. Quindi praticamente significa andare ad assicurare la proficua amministrazione attraverso la manutenzione, la conduzione tecnica e la fornitura di servizi correlati agli immobili e a loro utilizzazione. Gli immobili che vengono acquisiti di solito sono immobili già ultimati, quindi infatti finiti pronti per essere acquisiti. Quindi i costi principali sono legati all'acquisizione e eventualmente, se non sono immobili finiti, alla valorizzazione di diversi cespiti che noi abbiamo, sia equititore che come mercato del credito. Quindi il costo in generale che si va a fare con l'indebitamento è molto alto. Questo anche perché spesso vengono fatti mutui fino anche al 70-80% in casi, diciamo, retail, in casi istituzionali un po' diverso il discorso. Il costo dell'indebitamento spesso viene rappresentato un elemento decisivo per ottenere una struttura che sia economicamente efficiente. Inoltre bisogna anche considerare quanti interessi andremo a pagare, perché comunque l'interesse passivo può essere dedotto dalle tasche. Altri costi che possono essere dedotti o comunque che ci possono interessare sono i casi di interesse variabili, sono sicuramente i costi ed eventualmente su Mutuo Cap, quindi vale a dire la parte di copertura con i derivati. E di solito il Mutuo Cap non è tanto frequente in Italia quanto magari, soprattutto per investitori a retail, in quanto il Mutuo Cap significa che noi praticamente scommettiamo sul fatto che i tassi arriveranno a un certo punto. Quindi magari partiamo con i tassi di interesse all'1,5%, il trend è sicuramente rialzista al momento della stipula del Mutuo, quindi mettiamo con la banca che noi paghiamo praticamente un'assicurazione che ci copre la differenza se i tassi superano, che ne so, tipo il 3%. Fino al raggiungimento del 3% siamo noi che paghiamo un premio a loro e al contrario ce lo pagano loro a noi. Quindi questa è una tipologia di Mutuo che è spopolata in realtà anche durante le prime fasi di rialzo dei tassi e ovviamente si sta andando di più verso un tasso fisso. Un'altra spesa importante quando è presente appunto sono le diverse spese Capex. Quindi le spese Capex sono i costi di trasformazione, di ristrutturazione e di rivalorizzazione dell'immobile nel nostro caso. A seconda della tipologia di contratto che viene fatto, queste spese possono essere a carico delle società locatrice oppure a carico del proprietario, a seconda del tipo di contratto. Quindi a seconda delle spese che ognuno di noi grava, i contratti si definiscono dal double net e il triple net, che praticamente differisce su chi deve pagare determinate spese. Ad esempio il triple net è tutto a carico dell'affittuario, il proprietario non paga nessun tipo di spesa. Al contrario nel double net alcune spese vengono ripartite tra il proprietario e tra il locatore. Inoltre spesso è presente anche il problema dell'IVA, perché nelle società di gestione immobiliare tipicamente l'IVA non può essere dedotta per quanto riguarda le spese della gestione dell'immobile, bensì per le spese relative soltanto alla gestione della società. Ovviamente queste informazioni vanno sempre ricontrollate con il proprio commercialista di fiducia. Io non sono un advisor tecnico, non sono un consulente finanziario, quindi queste informazioni vanno sempre controllate con chi di dovere. Questo video ha scopo informativo. Ovviamente l'immobile che viene preso in gestione residenziale non è previsto neanche un suo piano di ammortamento, quindi praticamente tutte le spese verranno riferite soltanto alla gestione in caso di plusvalenza o di minusvalenza. Invece per immobili commerciali è previsto un piano di ammortamento. I proventi generalmente di questa società derivano dalla gestione dell'affitto o anche in casi straordinari dalla vendita degli immobili, in quanto fa parte del ciclo industriale. Quindi è normale che noi acquisiamo un immobile, lo mettiamo a locazione, dopo 8 anni vediamo del potenziale per rivenderlo, lo vendiamo per andare ad acquisire altri immobili in altre zone. Quindi diciamo sono la sostituzione degli dei cespiti a comunque un'attività primaria di queste aziende. Anche perché soprattutto a livello più professionale, quindi di istituzionale, di solito gli immobili vengono portati a fine vita e poi vengono venduti a fine vita per non andare oltre criteri di rischio prestabiliti con l'investitore del fondo. Quindi praticamente vengono venduti magari immobili core, vengono acquisiti da una società che li trasforma in un fondo opportunistico value add. Questo tipicamente succede. Poi ci possono essere movimenti di fondi, ma questi adesso li lasciamoci persi. Tipicamente anche quindi il principale attivo iscritto al bilancio è il valore stesso degli immobili, in quanto comunque una società di questo genere non ha necessità di avere grosse quantità di liquidità, in quanto non fa operazioni grosse, cioè se ho comunque immobili di ristrutturazione importanti. Un'altra cosa interessante, soprattutto quando poi si va a lavorare in gestione immobiliare tramite SRL, è interessante notare che le società di gestione immobiliare possono fare attività di holding. Quindi praticamente possono possedere delle partecipazioni in altre società, intascarne dei evidenti con tutto ciò che ne consegue, quindi aumentare il valore della società. L'altra attività principale che è quella che fanno veramente l'80% dei piccoli investitori immobiliari si chiama compravendita immobiliare. La compravendita immobiliare esplica nell'acquisto e nella vendita degli immobili, IVI incluse tutte le attività strumentali dirette alla valorizzazione dei beni nell'intervallo tra acquisto e vendita. Al contrario di quello che avviene con la società di gestione immobiliare, i beni che vengono acquistati vengono iscritti tra le immobilizzazioni, al contrario gli immobili acquistati da società per compravendita immobiliare vengono iscritti come beni merce, quindi non procedono ad avere in nessun modo, neanche in caso di bene commerciale, un procedimento sistematico di ammortamento in quanto vanno a concorrere soltanto alla formazione del risultato del conto economico secondo il meccanismo dei costi. I costi di questa attività sono i costi di acquisto più tutti i vari costi di ingenti immobiliari, mediazioni e i costi di interventi di valorizzazione. Infine abbiamo il costo per il finanziamento sia dell'acquisizione che della valorizzazione dei cespiti, quindi magari una struttura può essere di acquisire l'immobile con un mutuo, successivamente per non andare a pagare integralmente la ristrutturazione si viene a fare un finanziamento per finanziarsi la ristrutturazione. Questo ovviamente porta dei costi di debiti importanti, pratiche bancarie, nonché un costo di interessi spesso anche molto alto. Imposte ovviamente in questo caso possiamo andare a considerare l'IVA perché l'IVA viene corrisposta sia all'acquisto e alla valorizzazione, però non è oggetto di recupero, di detrazione ovviamente e di rimborso. E infine tutti i costi di imposte e i costi di manutenzione degli immobili. Ovviamente il problema è che, come già detto, le società, anche questo tipo di società, non possono spesso avere la detrazione dell'IVA sui beni che vanno ad acquistare. Quindi, considerando che l'IVA cresce sempre di più, è una voce che sicuramente andrà a incidere sempre di più nei bilanci. Questo poi comporta spesso anche dei costi maggiori per l'utente finale che va a comprare perché deve, tra virgolette, con il suo prezzo, coprire parzialmente almeno i costi d'IVA che le imprese sostengono. Si possono fare delle operazioni di esenzione dell'IVA, però diciamo che non ne tratteremo in questo video. Appunto, il problema che dopo andremo a vedere è la gestione delle società immobiliari in Italia perché comunque sono uno strumento necessario per l'obbligo di legge ma che di fatto penalizzano moltissimo l'investitore immobiliare. Infine, andiamo a parlare della terza tipologia di investimenti immobiliare che è lo sviluppo immobiliare. Lo sviluppo immobiliare è l'attività che caratterizza da fasi del ciclo produttive che sono diverse a seconda della tipologia dell'iniziativa che andremo a sviluppare e anche quindi conseguentemente dal punto di vista sia finanziario che economico. Allora, generalmente i costi dell'attività sono sempre l'acquisizione di aree che possono essere fabbricati con relativi diritti edificatori e tutte le diverse spese d'acquisto. Successivamente possiamo considerare anche tutti i vari costi d'acquisto come ad esempio i costi di natalili, di diligence, i costi di capex, quindi in questo caso di costruzione, collaudi, direzione, project management, i costi per il finanziamento perché comunque anche questa tipologia di investimento spesso viene fatta con elevatissime leve bancarie anche perché in questo caso, al contrario del trading che magari viene fatto su operazioni più retail, qua vengono fatti progetti con un margine di guadagno enorme quindi andare a coprire il costo bancario è veramente una sciocchezza perché banalmente possiamo dirla così. Comunque se generalmente il costo dell'operazione, cioè il guadagno dell'operazione è inferiore al costo del debito bancario, non potremo mai guadagnare. Dovremmo necessariamente ricorrere a meno leva per abbassare il costo del debitamento bancario. Generalmente comunque sui ritorni che si ottengono con progetti di sviluppo sono veramente molto molto alti perché sono veramente molto rischiosi. Si parla di decine di milioni di euro in gioco spesso. Spesso banalmente anche sviluppare una palazzina di tre piani comporta 800, un milione, un milione e mezzo di lavori più il costo del terreno, più tutto il resto. Infine le spese per il possesso. Quindi ad esempio abbiamo delle operazioni che non vengono vendute dobbiamo mantenerle in efficienza, fare le manutenzioni fino al momento della vendita. Magari non vendiamo tutto, dobbiamo mantenere sempre un pezzo del giardino. E poi i costi relativi all'attività di vendita sono importanti. Quindi ad esempio le mediazioni, i costi di agenzia, le spese di pubblicità e tutto il resto perché comunque su queste tipologie di progetto spesso soprattutto con l'avvento dei social ci sono un sacco di sviluppatori che vanno a fare pubblicità targetizzate anche su Instagram e i costi aumentano perché comunque devono essere gestiti da persone esterne. La cosa importante di questi progetti è avere una stima sempre importante sui tempi di realizzazione e come impattano i tempi sul flusso di cassa. Sia perché i mutui per fare queste cose, i finanziamenti per fare queste cose di solito sono allineati ai SAL che sono gli stati di avanzamento lavori quindi solo tanto quando si raggiunge un determinato stato viene pagato la rata del finanziamento e anche perché bisogna considerare spesso per lo sviluppo quando avrò gli acconti perché spesso gli acconti degli appartamenti o delle unità che andremo a vendere rappresentano un flusso di cassa importante che ci permettono di ridurre l'esposizione bancaria quindi non vendere significa non poter procedere con i lavori ma se volete poi di questo ne andremo a parlare anche in alcuni video andando proprio a vedere i bilanci di alcune società perché è una cosa molto interessante che prende molto l'idea anche perché a differenza dei costi qua gli immobili vengono considerati benemergi quindi sono considerati secondo il principio di correlazione con i ricavi quindi aumentano il valore del magazzino le voci ovviamente dei provendi principalmente sono sostanzialmente derivanti dai ricavi dell'attività di vendita ed eventualmente della locazione perché uno potrebbe pensare gli immobili che noi costruiamo di mandarli a vendere in realtà può succedere che per cambio di condizioni di mercato e altri fattori questi immobili non vengano venduti quindi generalmente cosa si fa all'imprenditore? generalmente l'imprenditore dice anziché lasciarli lì a marcire prendo e li metto in affitto anche se questo a volte può andare in contrasto con l'oggetto sociale della nostra impresa però generalmente è stato tramite sentenze note dell'agenzia delle entrate è stato detto che buona pratica dell'imprenditore è massimizzare i guadagni quindi anche in questo caso si può fare del legale a farlo obiettivamente poi si andrà a parlare per quanto riguarda poi tutto l'aspetto fiscale con i propri professionisti di fiducia però in generale appunto bisogna senere sempre in considerazione quando si vanno a fare queste tipologie di investimenti la questione del flusso di cassa perché è veramente molto importante come cosa anche perché di solito questi progetti sono progetti che durano anni possiamo dire che tra acquisto del terreno e inizio della costruzione possono passare 7-8 mesi perché comunque bisogna fare una pre-commercializzazione per provare ad attenere qualche acconto immediatamente e poi bisogna comunque pensare che anche i tempi autorizzativi per il comune e i tempi di realizzazione esecutiva sono notevoli perché comunque un conto è arrivare con un master plan già fa fare un progetto esecutivo, un conto è iniziare proprio da zero quindi comunque ci sono una serie di costi e di tempistiche comunque volute perché comunque anche l'ingegnere che progetta questa cosa richiede tempo e soprattutto se lo si va a fare come società immobiliare bensì non come costruttore bisogna poi andare a fare tutta la fase di tendere delle offerte acquisire le diverse offerte e stipulare tutti i vari contratti successivamente abbiamo i costi di costruzione allora generalmente la best practice per quanto riguarda l'immobiliare indica che un progetto deve essere completato dai 18 mesi da quando si inizia ad acquistare il terreno generalmente è sempre più lungo le tempistiche perché magari nell'acquisizione di progetti immobiliari di più palazzine non vengono fatte tutte in contemporanea bensì a scaglioni per una questione di costi e di ricavi di flusso di cassa quindi questo allunga di molti tempi al contrario un investitore istituzionale che ha fondi limitati può costruire tre palazzine in contemporanea diminuendo il tempo dell'investimento però aumentando di molto i costi relativi al flusso di cassa perché i costi vanno moltiplicati per tre nel caso di tre palazzine fatte in contemporanea questo diciamo che riguarda la parte retail dopodiché possiamo andare a fare delle considerazioni per quanto riguarda gli fondi istituzionali in particolare le società di investimento immobiliari quotate la loro possibilità di andare a fare e mettere obbligazioni di ottenere diversi bonus edilizi ma di questo ne parleremo successivamente diciamo che l'unico aspetto molto interessante sono i bonus edilizi generalmente a seconda di come veniamo inquadrati con l'oggetto sociale e alla tipologia abbiamo accesso o meno a diversi bonus edilizi però generalmente le società immobiliari anche di locazione non hanno mai accesso al bonus casa 50% hanno solo accesso ai diversi bonus ecologici che possono essere dal 65% fino a quello che era il 110% ma oggi non ce n'è anche più quindi non ha più senso parlarne al contrario le società anche di gestione, di trading possono acquisire bonus sulla demolizione e ricostruzione dei fabbricati però diciamo sono cose che variano veramente da semestre a semestre d'anno in anno quindi è più interessante andare a vedere di anno in anno con una guida all'inizio abbiamo parlato della difficoltà di fare imprese immobiliari in Italia allora il problema quale in Italia? è che se uno vuole fare il professionista immobiliare ma non ha risorse infinite per questioni economiche anche di tempo di vita uno non può necessariamente aprire un SGR e vuole farlo anche come secondo lavoro si trova costretto in dei cavili burocratici importanti in quanto per legge una persona non può fare attività imprenditoriale senza dichiararsi appunto come attività commerciale quindi una persona fisica non può comprare un immobile o più immobili riprenderli a posto e rivendere anche se uno è disposto a pagare tutte le tasse del caso quali plus valenza che al contrario non ci sarebbero il problema giustamente qual è? è che io sono costretto quindi ad aprire uno strumento societario perché aprire il regime forfettario con le cifre che ci sono in mezzo sarebbe un bagno di sangue quindi sono costretto ad aprire tipicamente una SRL ora il problema qual è? che una persona media normale per gestire comunque rendere profittevole una gestione tramite SRL ha bisogno di fare dei volumi importanti perché banalmente ad esempio abbiamo un costo di mantenimento della società che può arrivare anche a 10.000 euro l'anno più i costi dei ricavi, i costi delle tasse, i costi dell'IRAS e tutto il resto quindi in realtà lo Stato dovrebbe incentivare le operazioni immobiliari tramite società il problema è che non lo fanno più non lo fanno più perché negli anni 70 c'è stato un abuso completo delle società immobiliari questo perché prima di iniziare a fare legislazioni coerenti con l'attività immobiliare le persone cosa facevano? prendevano degli immobili e li andavano a inserire all'interno di società immobiliari questo cosa comportava? sostanzialmente comportava il fatto che una persona usasse una società sostanzialmente per motivi di comodo e oltre a questo riusciva ad avere tutti i vantaggi fiscali relativi a una gestione di una società quindi oltre a pagare le tasse che è l'IRAS e l'IRAP dell'epoca avevano una gestione di cassa ordinaria non straordinaria come si fa con la società ad oggi quindi praticamente questo cosa significa? che se noi ad esempio andavamo a fare una gestione di una locazione immobiliare ciò che noi facevamo sostanzialmente era andare a scalare tutti i costi andare a recuperare tutta l'IVA come magari fa il salumiere questo ovviamente portava dei benefici fiscali enormi perché magari su 100.000 euro di ristrutturazione riuscivo a detrarre 10-20.000 euro di IVA e questo ovviamente andava a fare un risparmio nonché a aumentare notevolmente il busto del guadagno dell'imprenditore con il tempo ovviamente lo Stato non ha più potuto permettere questo tipo di operazioni quindi ha fatto una serie di provvedimenti per andare a limitare le società immobiliari ad oggi quindi praticamente andare a fare trading immobiliare o ancora peggio gestione immobiliare almeno che non si abbiano decine di immobili è veramente molto scarsamente profittevole ovviamente come già detto siamo arrivati al paradosso in cui c'è necessità di avere un mondo, un parco immobiliare green entro tempi brevi come già stabilito dalla legge europea il problema qual è? è che se si vuole accelerare appunto per raggiungere i tempi bisognerebbe iniziare a far affidamento non solo sugli investitori istituzionali bensì anche sugli investitori retail quindi bisognerebbe iniziare a studiare una legislazione che non vada a sacrificare ulteriormente lo spazio di azione dei piccoli investitori immobiliari bensì li vada a valorizzare perché comunque una gestione immobiliare attiva un'attività di trading immobiliare porta soldi e porta tanti soldi allo Stato quindi bisogna iniziare a pensare degli stratagemmi per farlo ad esempio magari per chi lo fa come secondo lavoro si potrebbe mettere una sorta di imposta unificata sul guadagno più alta rispetto alla plusvalenza ordinaria ma non uscendo praticamente dalla necessità di avere un'impresa una partita IVA perché veramente i costi tendono a crescere all'infinito oltre a quello questo secondo me è un po' la necessità che c'è ad oggi nello Stato la necessità di avere un incentivo per i piccoli proprietari immobiliari e i piccoli sviluppatori immobiliari anche perché comunque spesso il costo dell'immobiliare è cresciuto tantissimo anche andare a fare un piccolo progetto di flipping immobiliare su un appartamento da poche decine di migliaia di euro può arrivare a costare 150-160 mila euro quindi è necessario che venga fatto uno sviluppo delle società immobiliari detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto io vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao ciao